Meno male ragazzi, meno male, meno male, in queste giornate buie, triste e tempestose in cui non c'è niente di cui parlare perché non c'è proprio niente di cui parlare, io cerco, cerco, cerco ma non c'è niente meno male che ogni tanto Agnelli, Erzor Agnelli, il signor Agnelli se ne esce con qualche chicca un po' alla De Laurenti, su un po' di quelle che fanno un cazzo a tutti per farmi fare il video allora prima di cominciare come sempre vi ricordo di seguirmi anche sul mio secondo canale saluto un iscritto a caso, stavolta saluto lungo a caso ragazzi quindi se ancora non l'avete fatto seguitemi sul mio secondo canale ogni mattina alle ore 7 indipendentemente se è mercoledì, se è giovedì o se è venerdì esce un video quindi mi raccomando seguitemi detto questo, detto questo io adesso devo rispondere ad Agnelli, devo rispondere ad Agnelli allora cosa ha detto Agnelli, cosa ha detto Agnelli, Agnelli ha detto, Agnelli ha detto l'Atalanta, ha preso come esempio l'Atalanta, ha preso come esempio l'Atalanta ovviamente per fare cosa? Per insistere, insistere sulla Super Lega e ha detto è giusto che l'Atalanta sia in Champions, si ha fatto una grande stagione io sono romanista, io sono romanista, ma la Roma ha investito, ha fatto sempre molto bene negli ultimi anni e per una stagione che è andata male non può giocare la Champions secondo voi è giusto? C'è una squadra fa degli investimenti importanti e poi si trova così secondo voi è giusto? Ha detto Agnelli? Secondo me no, ha detto Agnelli, io sono romanista e tra tre secondi vi risponderò in modo silenzioso, quindi alzate il volume al massimo qualora non l'aveste già al massimo, perché in questo momento cercherò, conterò fino a tre e poi vi risponderò in modo molto silenzioso uno, due, tre ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Ma basta ma basta con questa Super Lega, ma basta, ma basta ma perché, ma mi spiegate perché dobbiamo andare sempre, dobbiamo sempre andare a dare i soldi dove stanno i soldi, il potere dove sta il potere, i trofei dove stanno i trofei se la Roma ha fatto schifar cazzo, la Roma ha fatto degli importanti investimenti eh, ha comprato un Zonzi, chic, pastore, uno peggio di un altro probabilmente se a me mi avessero infilato un bastone dritto, dritto, un filato proprio dritto dentro al culo avrei giocato meglio di un Zonzi ok, abbiamo giocato, abbiamo comprato giocatori che non li convocherai manca al torneo che faccio ieri martedì sera cioè, e dovremmo andare in Champions perché? Perché abbiamo fatto degli investimenti? perché negli ultimi anni abbiamo fatto spesso la Champions? Ma che cazzo stai a dire? ma che cosa stai dicendo? Questo è il ragionamento per cui alla fine dobbiamo far, dobbiamo far sì che il campionato non valga più un cazzo la cosa bella del calcio è la competitività, quanti ti ci stanno? competitività, quella è la cosa bella del calcio, quella è la cosa bella del calcio, ok? il giocarsi ogni singola, ogni fottutissima, a me sta guardando un tipo che sta passando qui davanti perché mi guardi non capisco, ogni singola partita con il sangue, negli occhi, ovviamente sportivamente parlando giocarsi ogni singola partita, ogni singola, giocarsi ogni posizione ragazzi io non sto scherzando, io addirittura andrei a ammettere che ogni singola posizione vuol dire qualcosa ok? ogni posizione deve voler dire qualcosa perché se io arrivo dodicesimo e non tredicesimo per me è importante che io sia arrivato dodicesimo e tu vuoi elevare la possibilità ad una squadra come l'Atalanta l'Atalanta! dovremmo tutti prendere esempio da sta cazzo l'Atalanta che sta sui coglioni a tutti per quanto è forte, io non lo nego nel senso che se da adesso doveste perdere 10 partite di fila, speriamo cazzo sto lì, sto lì, sto lì, ma loro vincono sempre, ne fanno setta a chiunque quindi di che cazzo vogliamo parlare? è l'Atalanta, l'esempio dell'Atalanta tu mi stai parlando dell'Atalanta che è partita da lì niente dall'esonerare Colantuono a fine anno, a dirgli a Colantuono guarda grazie ma Stefano mi pare si chiami, grazie Stefano è stato un piacere per il progetto di salvezza, adesso proviamo a fare il grande salto hanno preso Gasperini, 5 partite, 5 sconfitte, lo volevano manna via a un certo punto ha vinto, poi ha vinto, poi ha vinto, poi ha vinto, poi ha vinto allora innanzitutto il progetto dell'Atalanta non mi fate incazzare perché io sono una persona che, sì, ovviamente se mi viene a favore mio sono contento ma non così, ma non così, ma io non voglio che il campionato, la Serie A serva a trastullarci, mi spiegate una squadra come, che cazzo ne so come la Fiorentina, una squadra come il Torino, ok, che sono squadre che bene o male la Samp si salvano e arrivano a metà classifica e al massimo puntano all'Europa se mi levi la possibilità di sognare per arrivare in Champions, per arrivare nei primi 4 posti se mi levi la possibilità di sognare, ma che cazzo giocano a fare ecco, prendiamo per esempio la Fiorentina la Fiorentina in B non ce va manco se si impegna l'anno scorso ha perso tipo 14 partite di fila, non c'è andata in Serie B, no? ma non ci arriverà mai cioè, cosa deve fare, cosa deve fare, deve investire deve spendere, mi sembra che stia spendendo stai zitta oh, non ho capito cosa ho detto cioè, secondo me, secondo me ragazzi, si sta creando il nulla si sta parlando sul nulla io se fossi un tifoso dell'Atalanta adesso starei spaccando i piatti sotto la sede di Agnelli che sia chiaro, che sia chiaro, me ne frega un cazzo che Agnelli è il patron della Juventus il presidente della Juventus, poteva essere il presidente anche della Roma eh sì, anzi, andrebbe a mio favore quello che ha detto Agnelli io lo ripeto, andrebbe a mio favore andrebbe a mio favore perché magari, mi ha fatto l'esempio della Roma per ringraziarsi la Roma per ringraziarsi la Roma vogliamo fare una cosetta, Agnelli vogliamo fare una cosetta vuoi che ci abbia tutto molto più competitività vuoi che l'Atalanta spenda 60 milioni di euro e allora non dividiamoli per i diritti di V per la fetta di pubblico non dividiamo i diritti di V per quanta gente guarda le partite o per il tifo in Italia non dividiamoli per come vengono divisi adesso dividiamoli equamente dividiamoli equamente vedrai poi che una squadra come, che so, come la Sverona tranquillamente, li spende i soldi li spende, perché se tu gli dai tutti quei soldi li spende, fa investimenti da 20, da 30 milioni di euro vogliamo farlo, visto che prendiamo sempre a modello gli altri paesi vogliamo prendere la Premier invece di prendere ad esempio l'NBA che c'entra un cazzo con il calcio questa NBA questa NBA torna a guardarti l'NBA vai a guardarti l'NBA non ci rompere i coglioni a me ragazzi è una cosa che mi fa infuriare è meritocrazia allora se domani io voglio vedere una cosa domani, domani, domani lo dico anche agli youtuber magari che ne so più piccoli tipo quelli facciamo così gli youtuber sotto i 10.000 iscritti ok? gli youtuber sotto i 10.000 iscritti giuventini, milanisti, interisti che non sono d'accordo con me almeno li plago subito se ce ne fossero almeno li plago subito ma anche sotto facciamo sotto i 50.000 vaffanculo almeno mi prendo proprio la fetta grande sotto i 50.000 allora youtuber sotto i 50.000 iscritti giuventini, interisti, milanisti, romanisti, laziali quelli che fa pari a voi da domani youtube diventa solamente per i big solo chi c'ha più di 50.000 iscritti può fare video gli altri danno da morire andatevene via e andate a cagare vi sembra giusto? vi sembra giusto? no, no perché se domani lo youtuber da 30.000 iscritti domani lo youtuber da 50 iscritti ok? inizia ad ingranare e la gente lo scopre è giustissimo che lui in poco tempo arrivi a 100 200 300 400 500 mila iscritti e faccia di youtube un lavoro oltre che la sua passione è giusto che ottenga tutti quei numeri che per il momento ancora non gli sono arrivati poi ovviamente lo youtuber da 50.000 iscritti 40.000 30.000 i numeri ce li ha però per farvi capire ok? vi sembra giusto? facciamo la superlega di youtube no? facciamo che solo quelli che ci hanno il verificato rimangono e gli altri implodono ma vi sembra corretto? ma vi sembra un ragionamento da fare? perché è questo che sta facendo Agnelli è un ragionamento che mi fa schifo che mi fa schifo ok? il Milan con tutto il rispetto per il Milan ma io spero che i tifosi del Milan siano d'accordo con me perché sarebbe un segno di maturità sarebbe un segno di maturità ammettere questa cosa sarebbe un fottuto segno di maturità in Italia e la maturità in Italia ci manca perché da anni pensiamo sempre al nostro fottuto orticello ieri stavo guardando il Tg ieri guardavo il Tg ovvero ok io non parlo di politica quindi nemmeno adesso parlerò di politica però guardavo il Tg Conte ha fatto il discorso e ha detto chiuse scuole per 15 giorni poi hanno fatto degli interventi di tutte le parti politiche tutte, tutte, tutte non ce n'era una tutte, tutte le parti politiche che rompevano i coglioni e che dicevano perché Conte aveva sbagliato tutte ma è possibile che dobbiamo sempre rompere i coglioni anche in caso di emergenza che questa emergenza per il nostro orticello tornerete a fare propaganda quando finirà sto cazzo di coronavirus santa la madonna ma è possibile mai ma è possibile mai sempre 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 non ce la faccio più ecco non gliela faccio più a me io l'ho letto io l'ho letto sono andato in bestia quello che ho letto di Agnelli sono andato in bestia sempre con sta Superlega ma se la faceste a casa sua la Superlega si facesse un campionato a casa sua ok perché perché a me non me ne frega niente che la Roma ha fatto gli investimenti ma che me ne frega ma se io arrivo decimo io non le faccio le competizioni europee io non le faccio io non le faccio le competizioni europee non le faccio se arrivo decimo io non le faccio le competizioni europee mi attacco al cosiddetto cazzo non le faccio se domani il Bologna arriva secondo fa la Champions ma è giusto fare la Champions ha detto ma è giusto che l'Atalanta faccia faccia la Champions che la Roma non faccia la Champions per un'annata buona ma io vi vorrei fare notare una cosa sì poi c'è chi è più fortunato che è più sfortunato l'Atalanta ha beccato il Valencia e la Juventus ha beccato il Leone e il Napoli il Barcellona ma il Napoli ha pareggiato la Juventus ha perso e l'Atalanta ha vinto 4-1 ok in questo momento fate voi poi mi direte eh vabbè ma il Napoli ha affrontato il Barca non d'accordo con me l'Atalanta è l'Atalanta e sarebbe divertente non lo spero perché io spero passino tutte ma sarebbe divertente vedere che solo l'Atalanta vada avanti e poi ti dirò di più Agnelli ma che cazzo parli dell'Atalanta che praticamente è la squadra che ogni volta che c'è bisogno di un giocatore glielo dai te lo fanno crescere te lo coccolano te lo creano e poi te lo ridanno bello e pronto ma con che coraggio dai contro all'Atalanta ma con che coraggio ma dovresti essere contento che adesso qualora chiedessi un giocatore te lo fanno crescere anche in Champions io non ho parole boh fatemi sapere la vostra sarò pazzo io sarò scemo io c'è sta c'è sta non è che io sia così sano ciao regà